Siamo all'interno ovviamente del teatro Flavio Vespasiano, anche se non ci sarebbe motivo, però l'atmosfera così ci porta un po' a parlare, leggermente sottovoce con il tono di voce basso. Paolo Fosso, dobbiamo presentare uno spettacolo che andrà in scena il 28 gennaio della sezione off del teatro. Esatto, buongiorno a tutti, buongiorno, buonasera, non si sa perché parliamo piano che veramente il teatro un po' inquieta, dicevo ecco io un giorno mi prenderanno a fare il fantasma del palcoscenico, il fantasma dell'opera, insomma che su richiesta, su noleggio compaio facendo dei versi strani, insomma. No, comunque siamo qui per parlare di una cosa molto bella, che è l'arrivo in città, quinto, quarto spettacolo della stagione off Dominio Pubblico, praticamente quest'anno si è allargata, poi dopo ne parliamo, di uno spettacolo molto forte, molto bello, che è Creatura Mia, di Econ Marianna Esposito. È uno spettacolo forte, che come sempre sarà fatto, come da tradizione ormai dei tre anni della stagione off del teatro Flavio Vespasiano, che affianca la stagione principale, viene fatto, insomma, in una situazione, gli appassionati lo sanno com'è, una situazione particolare sul palcoscenico, a creare questa, come posso dire, empatia, questa collaborazione, questa condivisione di emozioni fra pubblico e attore recitante. E infatti questo è uno spettacolo dove le emozioni la fanno da padrone, veramente, perché è uno spettacolo molto forte, parla di una madre alle prese con un problema, e un problema raccontato però con un linguaggio teatrale particolarmente coinvolgente, cioè non è solo parola, ma vediamo. È una cosa veramente che colpisce molto e è questo che un po' ci ha convinto a ospitarlo, ospitarlo anche perché è uno spettacolo, adesso lo facciamo vedere, è uno spettacolo... Che ha girato molto. Ha girato molto, dal Festival di Edimburgo a molti festival qui in Italia e è stato anche premiato e molto lodato dalla critica. Quindi, come dire, noi vi invitiamo, cioè io vi invito, il fantasma dell'opera vi invita a venire a vedere questo spettacolo perché veramente è una botta al cuore, molto forte, cosa che ci piace un po'. Assolutamente, è il motivo per cui veniamo al teatro, fondamentalmente per questo, per poter dare un po' una scossa alle nostre emozioni. Allora, vediamo un po' qui la storia di questo, la storia nel senso del vissuto di questo spettacolo. Sì, grazie ai potenti mezzi, qui sul mio iPad potete vedere i festival dove Creatura Mia è stato ospitato e alcuni brani di critica che ne parlano in toni deliranti, cosa che effettivamente merita, secondo me. Allora, l'appuntamento, abbiamo detto, è per il 28 gennaio? Ore 21, al teatro Flavio Vespasiano, stagione off, decisamente off, chiedo scusa, è la polvere del palcoscenico, insomma, un po' si sente dopo con gli anni, insomma. È il freddo dei sotterranei del teatro? Sotterranei, voi pensate a vivere nei sotterranei del teatro, con le catene, ti porti dietro le cose, coperto solo da un lenzuolo, insomma, è dura. Allora, voglio dire però che ricordare semplicemente, brevemente, che Creatura Mia è il quarto spettacolo di quella che è in generale la stagione off del teatro Flavio Vespasiano, che quest'anno, vogliamo dire gemellata, mi piace più dire che si è aperta un progetto della Regione Lazio con la TCL, che, diciamo, curiamo, ma è una parola così, troppo pomposa, che non mi piace di utilizzare. Ci occupiamo di questa cosa io, Paolo Fosso, e il teatro, e il gruppo Jobel. Ci stiamo occupando, insomma, di presentare, veicolare questi spettacoli, che sono molto belli, e praticamente sono le due storie off, una era storia per Maria, vissi per Maria, e l'altra è, appunto, Creatura Mia, e poi gli altri tre spettacoli di dominio pubblico, che sono spettacoli nati nell'off romano dell'Argò e dell'Orologio, che, grazie a questo progetto regionale, che è dominio pubblico, si sono usciti e si stanno girando per la Regione. Quindi è una cosa molto bella, perché un certo tipo di teatro finalmente esce e va a raggiungere un pubblico più vasto. Siamo contentissimi di fare parte di questa cosa, c'è stato un successo buono, un buon riscontro di pubblico, e, insomma, fino al 3 febbraio dominio pubblico e stagione story off, decisamente off, stagione off del teatro di Rieti. Questo, Creatura Mia, sarà il quarto spettacolo, ma non l'ultimo, ovviamente. Non l'ultimo, l'ultimo sarà il 3 febbraio, se non sbaglio, e quindi vi aspettiamo, però vi aspettiamo qui per parlarne diffusamente. Grazie a tutti.